Mi rivolgo a voi in questo momento drammatico per esaltarvi a unirci nella lotta a questa grave epidemia. Tutti sanitari, infermieri e medici hanno bisogno di disporre di strumenti adeguati per aiutarci. Contribuiamo dunque all'iniziativa Io faccio la mia parte della Fondazione Uspidaret, che da dieci anni ha dimostrato di devolvere opportunamente le somme raccolte. In questo caso saranno devolute all'acquisto di caschi per la ventilazione non invasiva, strumento indispensabile per assistere i pazienti che non riescono a respirare. Grazie. Ricorda che aiutando ti aiuti.